La partita è in salita da subito, compromessa con il gol preso, poi grosse difficoltà nel rientrare in partita per un controccolpo psicologico importante. Tanti ragazzi hanno avuto titubanze soprattutto nel primo tempo dove erano un po' spesati, questo gol li ha un po' spiazzati, anche se in alcune situazioni del primo tempo dove vediamo la traversa, vediamo l'occasione della mischia in aria, sicuramente un episodio a nostro favore avrebbe cambiato l'inerzia della partita. Cosa che siamo riusciti a fare nel secondo tempo in maniera importante, non capitalizzando tanto quello che abbiamo prodotto, però purtroppo quando le partite si mettono così, tanti episodi negativi, la situazione di Urso all'inizio, gol a freddo, la situazione psicologica, già in una partita che parte in maniera complicata, i ragazzi comunque hanno fatto di tutto per riprenderla, per ribaltarla, mettendoci cuore, mettendoci anima, non è bastato, adesso ci dobbiamo riposare, ritornare ad allenarci in una certa maniera per poi pensare alla prossima.